Una giornata importante per la Polizia di Stato perché è una data storica, esattamente 40 anni fa veniva approvata la legge 121 che rifondava il sistema della sicurezza del nostro paese e dava via vita proprio alla Polizia di Stato, la prima forza di polizia ad ordinamento civile. Un cambiamento epocale, non solo formale, che ha di fatto ridisegnato un po' tutto quanto il sistema. Una giornata che viene celebrata con un libro dal titolo La riforma dell'amministrazione della pubblica sicurezza e del prefetto Carlo Mosca, che però è scomparso qualche giorno fa, che di quella riforma è stato tra l'altro uno degli ispiratori. Dopo il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, quello del Ministro dell'Interno Lamorgese e del Sottosegretario Franco Gabrielli, nei 12 capitoli del libro vengono snodati sostanzialmente i temi più significativi di quella riforma lontana nel tempo, eppure ancora così attuale. Grazie dottoressa, buon lavoro a lei, a tutti gli uomini e alle donne della Polizia, in queste giornate che sono particolarmente impegnative.